allora ti piace molto molto bella bella macchina nuova quanto l'hai pagata e quando l'ho pagata ho pagata una bella cifra però in questa c'è tutto full option tu lo sai è una macchina che ogni dieci anni però la prendo con tutto quello che ci sta infatti tutto quello che offre la tecnologica su questa macchina full option ma non ha altitudine apribile? altitudine apribile no non è previsto ah non lo porti? no però c'ha i comandi dell'autorario sul volante mp3? no l'mp3 no non c'è il vettore mp3 no non c'è per l'autorario è uguale ma poi lo uso mp3 no non c'è l'ora non lo uso questo che è? questo è il filtro antiparticolato dpf dpf questo serve per l'ambiente non inquinare vedi questa lucetta? è spenta no? questa è sempre spenta sempre spenta se si dovesse accendere subito devi portare la macchina all'assistenza loro la prendono e la spengo mi spengo la lucetta bello stai tranquillo questa è importante ecco questa non mi hai dimenticato tutte le cose importanti no no eh sì poi c'è tutto questo cioè è tutto qua insomma è grande è una cosa interessante eh sì 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 bello è enorme le fricce le fricce c'è pure? eh 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 climatizzatore ah per il climatizzatore? eh eh vabbè bluetooth immagino? blu mp? blu mp no no non c'è c'è il compito di bordo vedi no? questo con il cruise control no? no non ce l'ha no no pensavi che questo è il navigatore eh invece no no neanche il navigatore c'è? no il navigatore no il navigatore non c'è ma ma che che serve questo navigatore dove devi andare il navigatore? no io non l'avevo comunque effettivamente senti ma quanto hai detto che l'hai pagata? ma neanche tanto vengo a prenderti alle sette e mezza non farmi aspettare no 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 Grazie a tutti.